È una strage che va fermata. La CGL Padovana chiede alle istituzioni di andare oltre le frasi di circostanze e di prendere provvedimenti dopo l'ennesima morte sul lavoro. L'infortunio mortale della cava di Pio Minodese costato la vita, l'operaio 55enne Pio Giaretta, colloca la provincia di Padova tra le pregiori del Veneto. Per il sindacato serve fare formazione. Dobbiamo fare scelte importanti, soprattutto legate alla prevenzione e alla protezione. Secondo noi dobbiamo creare una cultura sulla sicurezza del lavoro che parta dalle scuole insieme a una formazione importante a tutte le lavoratrici e lavoratori di tutti i comparti, in tutti i settori e anche agli imprenditori che intendono avviare un'impresa perché è impensabile che ci siano imprenditori che avviano imprese senza essere a conoscenza delle normative minime anche di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La CGL Padovana propone l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro. Nel momento in cui svolte le indagini si dimostra che c'è una responsabilità dell'imprenditore sul mancato, diciamo così, utilizzo dei dispositivi di sicurezza e quindi un mancato rispetto delle normative legate appunto alla tutela della salute e sicurezza. Quindi l'introduzione di questo reato compiene anche severe nel momento in cui viene accertato che ci sia un'assoluta responsabilità dell'imprenditore sulla morte o sull'incidente anche grave, un infortunio grave sul lavoro. Anche il segretario regionale del PD Andrea Martella ha commentato l'ennesima morte sul lavoro. Serve attivare immediatamente un osservatorio regionale sulla sicurezza con istituzioni e parti sociali per contrastare un fenomeno che in Veneto ha raggiunto livelli intorleabili. Auspichiamo che la regione si attivi subito, ha scritto il segretario Dem.